lunedì 9 dicembre buona giornata e buon inizio di settimana a tutti dalla redazione di Udinese TV la nostra prima diretta del mattino come al solito per sfogliare quotidiani nazionali e locali parlare di sport siamo all'indomani di una fine settimana che ha regalato il palaggio dell'Udinese contro il Napoli la vittoria ieri sera del Pordenone sul Crotone ma parleremo anche del ritorno ai punti dell'Apu Old Wild West prima di tutto ciò uno sguardo su come si sta risvegliando la nostra regione dal borgo del Lussari illuminato ancora con le luci dei lampioni e la neve che è scesa nei giorni scorsi ci trasferiamo poi a Trieste sulla costa per mostrarvi la veduta del Golfo Triestino che attende ancora le prime luci del giorno una giornata che si preannuncia parzialmente nuvolosa alcune gocce di pioggia già cadute in mattinata allora andiamo a farci raccontare tutto nel dettaglio della nostra Elisa Febo ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni meteo del Friuli Venezia Giulia di lunedì 8 dicembre cielo da coperto ad est con piogge moderate a nuvolosa ovest con precipitazioni deboli a intermittenti nevicate moderate oltre i 700 metri circa sulle Alpi Giulie più deboli e oltre i 1000 metri 1200 metri sulle altre zone nella zona di Trieste le piogge potranno essere più abbondanti temperature sulla costa le minime saranno comprese fra i 7 e i 9 gradi le massime tra i 9 e i 12 gradi in pianura le minime saranno comprese fra i 5 e i 7 gradi le massime tra i 9 e i 12 gradi a 1000 metri 2 gradi a 2000 metri meno un grado grazie a tutti l'appuntamento è a domani con le previsioni meteo dal meteo al traffico vediamo la situazione in temporale sulle autostrade della nostra regione non ci sono particolari criticità nessun accordo a rallentamento al momento nella tratta della A4 tra Trieste e Porto Gruaro alcuni restringimenti e scambi di carreggiata per i lavori della terza corsia come potete vedere dalle immagini in diretta dalle webcam di Autovie Venete circolazione scorrevole al momento c'è da segnalare invece un incidente verificatosi nella tarda serata di ieri siamo all'altezza della strada statale Pontebana a Codroipo in Viale Duomo con due auto coinvolte intervenuti sul poste le vedete nelle immagini il 118 i carabinieri della stazione di Codroipo i vigili del fuoco i volontari della locale stazione nessun ferito o grave sostanto alcune contusioni per i conducenti dei due mezzi incidentati queste le immagini della sinistra lasciamo gli aggiornamenti andiamo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali dove tenere banco la politica con il Corriere della Sera che apre con la frenata del governo sull'Imu asse tra Renzi e Salvini per la nuova legge elettorale si al proporzionale Gualtieri all'emendamento sulle false prime case pronto un decreto salva IVA se c'è la crisi le altre notizie richiamate in prima c'è la retroscena basta con l'eliti o si vota davvero l'intervento del leader del PD Matteo Renzi e poi Salvini deve essere chiaro chi vince governa le due voci con le interviste nella prima pagina della Corriere richiamate con poi Data Room la consueta rubrica di Milena Gabanelli così il Vaticano investe le offerte 700 milioni a centro pagina invece questa foto ci porta ad una provocazione un artista americano che fa sparire in un boccone l'opera di Cattelan l'arte che ha fame d'arte addio banana da 120 mila dollari la storia che arriva dagli Stati Uniti e poi un fatto che riguarda l'Italia la cronaca italiana con le due ragazze orfane Mattarella blocca il rimborso all'IMS un caso che ha visto l'Istituto Nazionale di Previdenza intervenire per tamponare quella falla normativa che si è venuta a creare Tridico so cosa si prova mia sorella è stata uccisa parla anche il Presidente dell'Istituto Pensionistico dalle pagine della Corriere andiamo sulla stampa di Torino la prima pagina scuole scatta l'allarme per l'uso senza controllo delle tecnologie digitali anche il mondo del lavoro chiede regole chiare per quanto riguarda le piattaforme parla il Ministro Fioramonti il cellulare come avere un'arma in tasca si parla poi delle sardine la piazza istantanea che spaventa la politica si preparano a scendere in piazza anche a Roma per la manifestazione nazionale Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia dice che con i 5 stelle il centrodestra unito può bloccare il MES e ancora invece la foto ci porta alla grande vittoria della pallavolo italiana ieri una doppia finale mondiale vinta quella di Civitanova nel maschile di Conegliano nel femminile sul tetto del mondo questo il richiamo doverosi in prima per una pagina di sport che fa bene al nostro paese la pallavolo in particolare sempre dalla stampa interessante l'inchiesta sul greggio iraniano che passa da Londra per aggirare le sanzioni americane dalla stampa andiamo su Repubblica l'apertura una grande alleanza per il lavoro l'intervista al segretario della CGL facciamo un progetto condiviso da esecutivo e imprese sindacati per evitare che il paese si sbricioli tra i punti prioritari l'occupazione del digitale e l'ambiente sulla manovra il ministro Gualtieri boccia la stretta sulle false prime case e poi un partito no grazie ma se Salvini cala è merito delle Sardini nel sondaggio di Repubblica Santori uno dei leader a noi interessa soltanto che la gente si alzi dal divano e venga in piazza questo su Repubblica per quanto riguarda le Sardine libero invece l'apertura pur di fuggire dall'Ilva ci offrono un miliardo si ritorna sul caso dell'acciaieria gli indiani non ne possono più Ansarormittal pronta a tutto pur di lasciare un paese dove l'economia è ostaggio di giudici sindacati grillini e gretini a centropagine il ministro Gualtieri al centro delle polemiche da del terrorista Salvini come moderato il ministro del PD usa l'ironia il quotidiano diretto da Vittorio Feltri che oggi riceve anche la lettera di Bossetti il presunto omicida di Aragamirasi i PM mi impediscono pure di difendermi lasciamo libero andiamo sulla verità l'Unione Europea regala 11 miliardi alle ONG e non vuole spiegarci il perché totale opacità da parte della Commissione sull'uso dei nostri soldi non rivela i nomi delle organizzazioni né il motivo per cui le finanzia e alla Corte dei Conti che chiede chiarezza replica ne riparliamo nel 2021 Ancora dalla prima della verità l'intervista a Raia da Sad non va in onda e diventa un caso diplomatico e ci bacchetta persino la Cina Ancora Gualtieri impazzito sul Messe rinsalvito sull'Imu il ministro dà dei terroristi a Salvini e Borghi poi annuncia che si opporrà alla stangata sulle seconde case Dalla verità andiamo sul foglio la pagina monografica del lunedì si apre con l'Italia spiegata con Giovanotti la musica come termometro della vita la luna come antidoto alla nostalgia la contaminazione come vaccino antichiusura l'ambientalismo come fotografia dei nuovi confini della libertà e poi i talenti del futuro e 700.000 in spiaggia il nuovo disco Un giorno da sballo con Lorenzo Giovanotti l'intervista di Stefano Pistolini lieve bizzarro da collocare e da capire Lorenzo sulla luna è un concept sulle immagini lunari della canzone italiana volevo cimentarmi con la voce una sfida che posso affrontare solo su canzoni non mie la luna il ricordo più forte della mia infanzia così Giovanotti andiamo sul giornale il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti bombe in nome di Greta tornano i Notav i centri sociali scatenano la guerriglia in Val di Susa la Torino Lione è un delitto climatico così l'ambientalismo si colora di violenza anche il giornale ritorna sull'intervista ma è andata in onda ad Assad la Siria dichiara guerra all'Italia il colloquio con la Maggioni diventa un caso e poi processi risarcimenti burocrazia così lo Stato si accanisce sulle vittime Mattarella interviene sul caso di Massa IMU salta la stretta governo in ritirata Litte Gualtieri Salvini ci spostiamo sul fatto quotidiano Salvini congresso clandestino politica i soldi carroccio addio il nord resta solo per coprire i guai col fisco il 21 dicembre il partito fondato da Bossi finisce in soffitta nel silenzio generale mentre l'attenzione di tutti è concentrata sulla sessione di bilancio sarà completata la musica con la Lega Nord per l'indipendenza della Padania che si trasformerà in Lega Salvini Premier a centropagina invece il ricordo di Piazza Fontana le prove sparite lunghi luoghi chiave ignorati dalle indagini migliaia di documenti che non sono stati resi pubblici molto difficili da consultare altri ancora inaccessibili Renzi aveva promesso trasparenza che non c'è stata dopo 50 anni ancora molti documenti sono e rimangono segreti chiudiamo con la prima pagina del Sole 24 Ore nel consueto focus del lunedì oggi si parla di fisco digitale che alza la posta 1,2 miliardi con gli scontrini 1 milione e mezzo di esercenti ma l'adeguamento dei registratori in corso all'agenzia 35 miliardi di documenti l'anno IMU tasi al capolinea attenti al saldo e poi la crisi di impresa al D-Day ma il correttivo slitta ancora si parla anche delle badanti per colfe badanti in nero lo Stato perde 2 miliardi su tasse contributi evasi e proprio di badanti si parla nella prima pagina del messaggero Veneto che andiamo ad aprire venendo alle notizie di casa nostra una panoramica sulle badanti sempre più numerose in calo invece le Ecole il primo sorpasso risale al 2011 ma ora la tendenza scrive il quotidiano si è consolidata che assiste ai nostri anziani guadagna in media 6.800 euro l'anno le altre notizie in prima si torna sui disordini dopo la partita contro il Napoli di sabato fermati 10 tifosi friulani con poco dopo la fischio finale che hanno cercato di entrare nell'area del parcheggio riservata agli ospiti le altre notizie in prima il comitato per le rogge non vuole la centralina in largo delle grazie sempre a Udine tra incendi dolosi in via Pozzuolo con i vigili del fuoco insultati dalla famiglia Roma proprietaria del terreno e poi ancora due bancomat nel mirino dei ladri ma l'assalto falisce tra Maiano e Sedegliano ginnastica della mente come restare in forma dopo i 60 anni si parla in un'inchiesta anche del fascino discreto delle false griff il 30% compra dagli abusivi e poi di taglio alto l'anticipazione di sport dopo il pari con il Napoli Gotti fino a Natale mentre per quanto riguarda l'Apu in extremis la spunta in Puglia contro San Severo andiamo all'interno per approfondire alcune delle notizie richiamate in prima partendo proprio dall'indagine sulle badanti sulle false griff che fanno gola al 30% dei consumatori della regione l'identichid di chi compra dagli abusivi è donna dai 35 anni in su con un livello di istruzione medio impiegata o pensionata vestiti e accessori i prodotti più contraffatti seguono alimentari ed occhiali questo il quadro che emerge dall'analisi del messaggero dalle pagine cittadine gli scontri post Napoli disordini dopo la partita la polizia ferma 10 tifosi bianconeri i supporters avevano in mano le cinghie dei pantaloni e stavano per aggredire i partenopei ancora scontri dopo le aggressioni del 2010 queste sono alcune istantanee dell'intervento della polizia presidiare i parcheggi andiamo con le pagine interne del messaggero la cronaca relativa alla città auto in fiamma i vigili del fuoco insultati è successo sabato sera nel cortile di una famiglia rom i roghi tre in quattro ore sono stati tutti di origine dolosa dalle pagine del messaggero al gazzettino l'apertura nazionale del quotidiano che ci mostra per quanto riguarda i temi nazionali il focus sulle pensioni si cambia di nuovo dopo quattacento riapre il tavolo previdenza sistema flessibile in anticipo con le penalità sulla manovra dietro frontimu resta la doppia prima casa ed è duello sugli asili nido gratis le pantere sul tetto del mondo anche il gazzettino celebra la vittoria dell'immoco conegliano contro Istanbul nella finale della competizione per club e poi ancora caduto sulle rotaie del tram il comune condannato a pagare successo a Mestre 100 mila euro di risarcimento l'assessore temo altri contenziosi all'interno il dorso del quotidiano dedicato al Friuli Natale Amaro per operai e docenti nuovi fronti di crisi nel territorio provinciale di Udine come nel resto della regione sindacati preoccupati gli ultimi casi sono quelli della Chipre e della DM Electron ma la guardia rimane alta anche sul distretto della sedia la notizia che riguarda Artaterme Exotel Savoia all'ora della svolta ha pubblicato il bando per l'affitto il sindaco una data da ricordare a centropagina la foto del Largo delle Grazie con la roggia le firme contro la centralina il progetto è nato un comitato che si batte per lo stop l'anticipazione di sport che andremo a trattare tra poco l'Udinese ora è attesa le due partite decisive sono quelle contro la Juventus e poi con il Cagliari prima di Natale uno sguardo alla piccolo la prima pagina nell'edizione di Trieste che ci propone una notizia di cronaca lo schianto tra auto e moto in strada per Opicina gravissimo un sedicenne nell'incidente ferito anche l'amico quindicenne forse all'origine dello schianto uno stop non rispettato Portovecchio e Molo Settimo ecco i piani di Maneschi parla il vertice con le novità sul fronte portuale triestino di taglio alto lo sport con la triestina Rocco beffata nel finale dal Modena e l'Allianz che senza anima in casa della Virtus rimane sconfitta dunque da Domenica Amara per le formazioni giuliane andiamo a vedere anche l'edizione di Gorizia del piccolo con la prima pagina dedicata alla città divorati dalle slot 5,6 milioni di euro all'anno ma spariranno 9 macchinette su 10 le conseguenze della stretta di regione comune oggi in consiglio la mozione Tomasella sull'applicativo Smart cittadinanza onoraria alla senatrice Segre la richiesta di Rosi Tucci l'ordine del giorno in aula del consiglio comunale di Gorizia un passaggio anche sul messaggero di Pordenone l'apertura dedicata alla città del Noncello aziende speciali Rebus per salvare Concentro chiesto un parere legale per mantenere le due realtà con funzioni diverse lettera di Marchiori della Confcommercio agli atti la norma prevede la chiusura si parla anche del consorzio universitario Pavan siamo pronti a rientrare come soci avviata la procedura andiamo ad aprire le pagine sportive con le prime nazionali che ci raccontano il fine settimana di Serie A ieri la notizia che guadagna la copertina è la ritrovata vittoria del Milan con Pionte che torna a segnare e il Milan torna a sognare pum pum altra vittoria sulla Via Emilia 3-2 alla Bologna le altre notizie Sarrismo manovra anticrisi la Juve e quei lampi anche di Ronaldo ma in mezzo è un rebus Inter arriva il Barça 2 incasso record e dubbio Messi sulla sfida di Champions in settimana sul fronte mercato e invece Alonso in pole a sinistra chi sale e chi scende riecco Zazza l'euro toro va ultimatum viola Montella Cagliari rimonta da quarto posto nelle sfide di ieri della Serie A c'è il Lecce che pareggia col Genoa 2-2 il Sassuolo con il Cagliari con il medesimo risultato vince il Brescia contro la Spala Ferrara vince il Torino sulla Fiorentina 2-1 il Parma si impone sulla Samp 1-0 vince il Milan a Bologna 3-2 la classifica aggiornata vede l'Inter a quota 38 la Juve a 36 la Lazio a 33 Cagliari Roma 29 l'Atalanta 28 Napoli Parma 21 Torino e Milan a 20 Verona 18 Bologna e Fiorentina a 16 15 punti per Lecce Udinese e Sassuolo 12 la Samp 11 il Genoa 10 il Brescia 9 la Spala dalla Gazzetta dello Sport andiamo sul Tutto Sport terapia d'urto Juve in ritardo rispetto alla scorsa stagione 7 punti e 6 gol segnati in meno 7 gol subiti in più questa è la ricetta di Sarri per il rilancio striscia la rimonta contro la Fiorentina il Toro conquista la terza vittoria nelle ultime 4 partite ma la contestazione continua nuovi striscioni al fila e cori allo stadio mondiale per club festa Italia Civitanova e Conegliano sul tetto del mondo il nuoto quadarella e miressi show agli europei oro e argento per le italiane questo è Milan ritmo d'Europa Bologna non basta sinisa andiamo con la prima pagina del Corriere dello Sport Scudetto per 4 la corsa al titolo secondo cappello se la giocano Inter, Juve, Lazio e Roma in zaghe è riportato al calcio al suo ABC e la qualità che fa il bel gioco da noi non si dribbla più e gli arbitri fischiano troppo ho un'idea per il VAR domani in Champions si vedrà chi ha personalità questi alcuni concetti espressi dall'allenatore e poi ancora Ancelotti Carlo tiene duro e non si dimette la crisi del Napoli il tecnico vive un momento difficile ma ribadisce che va avanti mai pensato di mollare domani la verità contro il Gank in Champions fantastica Simona ora nei 400 stile e poi siamo i padroni del volley mondiale con le doppie vittorie di Conegliano e Civitanova di Taglio Alto invece tornando al calcio Montella all'angolo fiducia a scadenza il Milan riparte Bologna piegato andiamo sui quotidiani di casa nostra per parlare di Udinese siamo alla giornata successiva del pareggio interno contro il Napoli di sabato il messaggero titola Pozzo ha deciso che sarà ancora l'Udinese di Gotti due tregattatori agganciabili sul mercato italiano Zengo Pasquale Marino meglio proseguire con il tattico che sta dimostrando di avere in mano il gruppo di sicuro l'attuale responsabile tecnico guiderà la squadra nelle due gare prima di Natale con Juve e Cagliari sul tavolo anche la possibilità di ingaggiare un supervisore di esperienza da affiancare a Gotti il messaggero ricorda oggi l'anniversario dei 20 anni dall'impresa di Leverkusen quando l'Udinese di Decanio andò a ribaltare lo 0-1 del Friuli vincendo 2-1 in casa del Bayern con la doppietta di Margiotta lo vedete nella foto sempre dalle pagine del messaggero il punto sui bianconeri Iaialo fuori gioco per lo stadium Sema ci prova altri accertamenti per lui per quanto riguarda il giorno odierno sarà uno stacco servirà quindi per ricaricare le pile in vista della ripresa della preparazione fissata per domani ma soprattutto in vista della sfida che tutti vorrebbero giocare quella contro la Juventus in programma domenica all'Allianz di Torino alle quitici sarà una partita per molti ma non per tutti considerando che Mato Iaialo sarà ancora assente a causa dell'infortunio rimediato alla vigilia contro la Lazio e poi la prospettiva di un recupero difficile anche per il Cagliari lo svedese che insieme vivrà ancora una settimana di incertezza in attesa dei nuovi accertamenti questo è il punto sui bianconeri andiamo a parlare di Udinese anche dal gazzettino con la pagina dedicata alla formazione di Gotti l'Udinese ha ripreso a funzionare contro il Bologna e il Napoli i bianconeri hanno saputo reagire alla sconfitta contro la Lazio dimostrando di poter essere protagonisti in campo nel punto di Guido Gomirato tra le note positive delle due gare alla Dacia Arena c'è il secco Fofanà tornato prezioso a centro campo in attacco è piaciuto e non poco caca sempre al servizio della squadra non andò a recuperare palloni importanti anche in difesa e poi una prova di maturità sacrificio e dedizione negativi invece il primo Kong impeccabile quasi nel primo tempo su gol di Napoli non ha chiuso Zielinski mentre avrebbe dovuto immediatamente accorciare sul polacco quando questo si è impossessato della palla per quanto riguarda De Poli invece ha confermato di non essere nelle migliori condizioni anche se parso in ripresa dopo l'opaca prestazione fornita contro la Lazio il punto ora bisogna strappare punti anche a Torino e con il Cagliari le prossime gare verso il giro di Boia verso il giro di Boia del girone di andata con i frulani che andranno a caccia di importanti punti salvezza per cercare di girare a fine girone con quella ventina di punti che rappresenterebbe insomma una sicurezza in chiave salvezza per quanto riguarda poi le altre notizie c'è il personaggio il profilo di Kevin Lasagna che ha ritrovato il gusto dei gol di destro e di sinistro dopo la rete in Coppa Italia anche in campionato Kevin è tornato a siglare una marcatura importante Cappello e Quindici che sta cercando di scavalcare Ilian Estoroschi nelle gerarchie di Gotti visto l'inamovibilità di Okaka andiamo a parlare di Pordenone ora un Pordenone che esce ancora trionfante dalla Dacia Arena è bastato ieri un autogol di Mustacchio per sconfiggere il Crotone al 44esimo del primo tempo il portiere regala il vantaggio che i nero-verdi difendono poi fino alla fine nonostante l'assenza di Tessere il Pordenone ha comandato in campo e può anche recriminare per un rigore non concesso andiamo ad ascoltare le parole del presidente Loviso a fine gara a vedere le azioni salienti dell'incontro Abbiamo avuto un paio di occasioni la prima l'abbiamo avuta noi veramente poi c'è stato questo gol che ha un po' rotto gli equilibri e credo che il secondo tempo sia stata molto equilibrata noi abbiamo cercato di gestirla senza soffrire perché credo che non ci ha avuto neanche un'occasione il Crotone nel secondo tempo a parte qualche cross c'era questo episodio che poteva fare il 2-0 però insomma va bene così siamo contenti siamo secondi la squadra importante che non prenda gol è inquadrata attenta voglia credo che sia un bel risultato e ce lo torniamo ben stretto Per quanto riguarda questo mese di dicembre poi il prossimo appuntamento con una cosenza da non sottovalutare Noi dobbiamo migliorare in trasferta lo sappiamo anche questa settimana abbiamo parlato un po' tutti insieme per capire perché credo che questa squadra abbia potenziale anche per far bene in trasferta in casa abbiamo un ruolino da marcia che fa spavento però fuori dobbiamo migliorare dobbiamo migliorare nell'approccio soprattutto perché noi il primo quarto d'ora normalmente vediamo sempre gol quindi dobbiamo lavorare sotto questo però stasera godiamoci questa vittoria e la dedico un po' a tutta la gente che lavora nell'amido del Pordenone perché credo che noi stiamo facendo qualcosa di importante e l'avete visto lo sfortunato autogol di Mustacchio che ha permesso ai neroverdi di ottenere i tre punti le partite che il Pordenone poi andrà a giocare in questo mese di dicembre andranno a definire le reali prospettive di una squadra che come potete vedere in classifica al secondo posto appaiata la cittadella 4 a 25 deve tenere a conto che la distanza dalla cremonese che si trova al sedicesimo posto nella prima della zona play-out è di soli 8 punti quindi un gruppone di squadre raccimolate in pochi punti e il primo errore può essere pagato a caro prezzo le dichiarazioni della post partita dopo Tesseri ieri ha parlato anche Struckel il mister in seconda che è andato a sostituire in panchina Tesser squalificato in casa imbattuti per otto gare come Juventus e Benevento anche Lovisa esalta la squadra ora miglioriamo in trasferta andiamo a vedere le pagelle di Grigorio per lui 7 il portiere con un doppio miracolo sulle conclusioni di Simi e Vido poi 6 a Vogliacco in campo dal primo minuto 7 a Camporese 6 e mezzo a Barison 6 ad Agostini 7 a Gavazzi 6 a Burrai 6 e mezzo a Pobega 5 e mezzo a Chiaretti 6 a Zammarini 6 e mezzo a Ciurria senza voto Mazzocco 5 e mezzo a Strizzolo 6 a Candellone 7 a Mr. Struckel il Crotone invece ha pagato dunque a caro prezzo lo scotto della Dacia Arena allora andiamo ad ascoltare le parole dell'allenatore l'ex bianconero Giovanni Stroppa è vero purtroppo gli episodi non li portiamo dalla nostra parte quindi secondo me è un grandissimo limite fino a qualche settimana fa avevamo sicuramente un'incisività diversa avevamo una cattiveria diversa nel voler fare le cose oggi forse è mancata un pochino io ho la sensazione che la partita poteva anche durare due ore ma forse il gol non riuscivamo a farlo gli episodi del primo tempo secondo me sono stati determinanti e siamo rimasti sotto praticamente senza subire un tiro in porta anzi l'abbiamo fatto noi forse quindi sicuramente con una partita in salita potevamo fare di più molto di più e quindi per vincere su questi campi o per poter fare risultati su questi campi ci vuole qualcosa in più in questo momento non ce l'abbiamo si l'aveva anche detto ieri in conferenza l'ho seguita che gli episodi fate proprio fatica a portarli dalla vostra parte anche se aveva premesso quanto sarebbe stato difficile vincere qua perché lei aveva sottolineato che qua non ha vinto nessuno e così è stato appunto assolutamente noi conosciamo tutti gli avversari che incontriamo sapevamo che poteva essere una partita più sporca rispetto a quelle solite Cittadella ha insegnato col Cittadella abbiamo fatto un'ottima partita sotto l'aspetto dell'attenzione della determinazione a tenere il campo episodio dell'ottantasettesimo che ci vedeva in vantaggio nel risultato ci ha penalizzati e quindi non abbiamo fatto quel salto di qualità che questa squadra merita perché poi io non dimentico quello che la squadra ha fatto fin qui e sta facendo abbiamo fatto una partita come al solito di spessore sotto l'aspetto tecnico ma inconcluente queste sono le parole di Giovanni Stroppa andando sul basket invece prima di salutarci per il break una boccata d'ossigeno per l'All-Duel West senza i due play Udine prova di Amato perde dopo sette anche Penna ma passa Sansevero buona prestazione di squadra decisivi tra tiri liberi del nuovo arrivato Gazzotti 80-83 risultato finale contro la formazione di Sansevero nella giornata in cui Ravenna nel finale passa a Mantua e Folì e Verona vincono la classifica aggiornata della Serie 2 Girone Est vede Ravenna a guidare a quota 18 poi a 16 Folì e Verona 14 nel gruppone Ferrara-Mantovana e Piacenza a 12 Juve Caserta e Old Wild West ma la classifica è sbagliata perché Udine a quota 14 ci fermiamo qui break e poi di nuovo assieme con tutti gli altri approfondimenti di giornata